Sento molte falsità in queste ore su sanità e legge di bilancio. E allora facciamo ancora più chiarezza, più 6,4 miliardi per la sanità in due anni più 2,37 miliardi nel 2024 e più 4,12 miliardi nel 2025. Record della storia d'Italia per il Fondo Sanitario Nazionale, 136,48 miliardi nel 2025 e 140,6 miliardi nel 2026. Questi numeri. Il resto sono mistificazioni. Basta un tweet di Giorgia Meloni per smontare pezzo pezzo tutte le balle della sinistra sulla manovra e soprattutto sui presunti tagli alla sanità che non ci sono stati. Una risposta, tra le righe, alla Sclenche, spiazzata da una manovra che guarda alle fasce più deboli, ha cominciato a sbraetare contro l'esecutivo sui fondi alla sanità. Il governo ha annunciato di avere chiesto un grande sacrificio a banche e assicurazioni, ma a quanto pare, si tratta solo della sospensione di detrazioni. Poi aggiunge, traduco, si tratta di un anticipo di tasse che sono già dovute dalle banche e dalle assicurazioni e che saranno loro puntualmente restituiti tra il 2027 e il 2029. Quindi siamo al solito gioco delle tre carte, come se gli italiani fossero stupidi, ma non ci faremo prendere in giro, continueremo nella battaglia per la sanità pubblica perché il diritto alla salute è scritto nella nostra Costituzione. Grazie a tutti.